Musica Benvenuti all'edizione della notte del Tg di Telemolisi in apertura alla politica. Iorio ha una strana idea della coalizione, il centrodestra che coincide solo con se stesso. Le parole sono del presidente della regione Toma che prende le distanze dalle critiche espresse al suo indirizzo proprio dall'ex governatore. Alle critiche rispondo con i fatti, dice Toma, citando l'investimento di Stellantis. A Termoli l'intervista di Pasquale Di Bello. Sullo stato di salute del centrodestra, Toma dice la sua all'intervento del presidente della regione, segue le critiche espresse al suo indirizzo dall'ex governatore Michele Iorio. Caustico il commento del governatore. Quella di Iorio, dice, è una strana idea di coalizione. Considera centrodestra solo quello che coincide con se stesso. Le critiche sono sempre legittime se si tratta di critiche politiche. Il problema del consigliere è che intende, ha una strana idea del centrodestra. Sembrerebbe che il centrodestra coincida con la sua persona. Invece il centrodestra oggi è una maggioranza formata da almeno 11 esponenti di quella coalizione che ci ha fatto vincere le elezioni e che ha portato me alla presidenza della regione. Quindi fare delle critiche così pesanti come quelle che ho sentito significa anche esprimersi in una maniera politicamente, io ritengo non corretta, nei confronti della maggioranza di questi consiglieri che per ben due volte in consiglio regionale mi hanno rinnovato la fiducia. Uno dei temi al momento divisivi del centrodestra è rappresentato dalle elezioni amministrative di Isernia. Su questo, dice Toma, preferisco osservare e se interpellato intervenire. Intanto si dice favorevole proprio ad una candidatura di Michele Iorio a sindaco del capoluogo Pentro. Io, contrariamente al vecchio modo di fare politica, non intervengo direttamente sulle questioni locali anche perché ritengo che la politica la debbano fare i partiti e i coordinatori dei partiti che abbiamo sui territori. Se sono chiamato dico la mia, io sono stato chiamato, ho detto la mia. Mi era stato ipotizzato in un primo momento la candidatura del consigliere Iorio, io ho detto che ero favorevolissimo. Sul proprio futuro politico Toma resta bottonato al momento opportuno, valuterò le indicazioni che perverranno dal partito Forza Italia, dice, lasciando così aperte tutte le possibilità, da quella di una ricandidatura alla regione come all'approdo parlamentare. Il mio futuro politico sarà quello che il partito da cui provengo, Forza Italia, mi chiederà di avere, ecco, ciò che mi sarà destinato, io valuterò e potrei aderire. Vedremo, vedremo. La risposta alle polemiche Toma intende darla con i fatti, dice, esprimendo la propria soddisfazione per il grosso investimento che Stellantis andrà ad effettuare a Termoli. La Stellantis ha deciso in Europa di investire 30 miliardi di euro, Termoli è la terza, in Europa la terza giga factory dell'elettrico, investimenti, lavoro, benessere. Oggi per Termoli e per il Molise è un grande giorno. Appena ieri qualcuno diceva che la fabbrica avrebbe chiuso e che io mi sarei dovuto muovere. Evidentemente ci siamo mossi bene e siamo stati scelti perché la regione è ritenuta affidabile. E adesso veniamo al quotidiano bollettino Covid diffuso in serata dall'ASRE. Oggi zero contagi in regione su 448 tamponi processati. Ci sono invece 11 guariti, vedete la grafica, e scende così a 54 il numero degli attualmente positivi in regione. Nessuna vittima, nessun nuovo ricovero, resta solo uno, il paziente ricoverato al Cardarelli. Immaginiamo il Molise del 2030, questa iniziativa, l'iniziativa del PD organizzata a Venafro da Stefano Buono, presidente della componente partecipazione democratica. Presenti all'evento, l'ex presidente della regione Abruzzo, senatore D'Alfonso, e l'ex assessore all'urbanistica di Venezia, in servizio di Enzo Di Gaetano. Successo per il convegno organizzato a Venafro su Molise 2030, sostenibilità ambientale e prospettive di sviluppo legate al piano di rilancio finanziato dall'Europa. L'iniziativa è stata patrocinata da Stefano Buono, della componente PD di partecipazione democratica. Continua la riflessione che stiamo portando avanti da un po' di tempo con iniziative territoriali sul futuro del Molise del 2030. La differenza è che oggi comincia anche una riflessione sul futuro di Venafro, che abbiamo voluto chiamare Laboratorio 86-079. L'idea è quella di chiamare a raccolta cittadini e cittadini le migliori menti che abbiamo, figure istituzionali di rilievo, per farci dare una mano e per immaginare tutti assieme in uno sforzo di progettualità in che modo si possa lavorare per migliorare le cose. Presenti ospiti di rilievo nazionale, tra loro il senatore PD Luciano D'Alfonso, ex governatore dell'Abruzzo, che ancora una volta è tornato sulle sinergie tra le due regioni confinanti, una volta unite tra loro. È la terza volta che vengo a discutere in Molise di questo tema. Quando evolvono le istituzioni? Le istituzioni evolvono quando ci sono le necessità, o quando ci sono grandissime idealità che spingono in avanti o quando ci sono le necessità. Noi siamo in un punto nel quale sia l'elaborazione ideale che la consapevolezza delle necessità sta facendo emergere che non c'è altra strada che organizzare una nuova forma di cooperazione delle regioni. Ci sono le macro-regioni che presto entreranno nel dibattito nazionale ed europeo ma ci sono anche le cooperazioni rafforzate. Noi dobbiamo cominciare a fare cooperazione rafforzata per le infrastrutture, per l'approvvigionamento energetico, per la collocazione turistica, anche per la soddisfazione della domanda di acqua. C'è un tema, per esempio, l'acqua, la risorsa acqua, la risorsa aria. Su questo le regioni da sole non ce la fanno a vincere la sfida. Mettiamoci insieme. A Venafro anche il senatore PD Andrea Ferrazzi, molto conosciuto a livello nazionale perché è ex assessore all'urbanistica del Comune di Venezia e profondo conoscitore dei sistemi di sviluppo urbano. L'urbanistica costruisce la casa dove sta la comunità locale. Se dunque la casa della comunità locale è fatta male, le persone stanno male, la comunità sta male e la comunità cresce male. Gli inglesi parlano di sprawl, cioè parlano di città che hanno perso i confine, città deliranti etimologicamente, che hanno perso le loro funzioni storiche e consumano il territorio in maniera indifferenziata, lasciando peraltro nei centri urbani, nei centri storici, i buchi neri perché non riusciamo a trasformare le nuove funzioni. Tra gli interventi da sottolineare è anche quello di Micaela Fanelli, capogruppo alla Regione del PD, che si è detta entusiasta dell'iniziativa di Stefano Buono. C'è un movimento, c'è un gruppo di giovani molto preparato e che ha voglia di ottimismo rispetto ai dati del PIL dell'Italia che riprendono a camminare, rispetto a una stagione nuova che non può che lasciarsi alle spalle gli errori sia del modello istituzionale, sia del modello politico che il Molise sta conoscendo in questa fase. Noi siamo pronti per una riscossa, Stefano Buono è bravo per accompagnare questa riscossa. Abbiamo due senatori di livello nazionale che ci aiutano a ragionare anche su dei temi specifici, quindi è il nostro gruppo che riesce a dare delle indicazioni anche di prospettiva. Questa mattina i sub della Marina Militare arrivati da Taranto con l'ausilio delle motovedette del battello della Guardia Costiera di Termoli hanno fatto brillare gli ordigni esplosivi trovati sul relitto affondato a largo delle coste termolesi. Vedete il momento dell'esplosione. Le cariche da lancio e relativi proiettili di grosso calibro erano state ritrovate in ottimo stato di conservazione e potenzialmente pericolose a bordo del mezzo anfibio risalente alla Seconda Guerra Mondiale e nei giorni scorsi erano state raccolte dagli operatori subacquei. All'alba la motovedetta della Guardia Costiera ha rimorchiato gli ordigni sul punto prestabilito per il brillamento situato a circa 4 miglia a largo del porto di Termoli. Poi sono stati fatti esplodere ad una profondità di circa 30 metri. Probabilmente a bordo del relitto sono presenti ulteriori ordigni. Per questo motivo le operazioni per bonificare l'intera area dovrebbero proseguire anche nei prossimi giorni. Resta il divieto di transito e sosta nell'area dove è stato ritrovato il relitto. E adesso parliamo della Bifernina. Da settimane si susseguono i disagi per la presenza di diversi semafori. Disagi che da domani dovrebbero terminare. Stamattina è stata infatti presentata la bretella che consentirà appunto da domani di bypassare uno dei viadotti dove sono in atto i cantieri. Una parte dei cantieri comunque è stato annunciato sempre oggi sarà bloccata a partire dalla metà di questo mese. Il servizio di Manuela Iorio. È stata inaugurata questa mattina la nuova viabilità alternativa alla Fondovalle del Biferno nel tratto in corrispondenza del viadotto Molise 2. È destinata al traffico in direzione Campobasso. Quello verso Termoli invece proseguirà nella corsia del viadotto. Più di 4 chilometri tra Gualdialfiera e Lupara. Si tratta della vecchia statale che era stata dismessa nel 1975 con l'apertura dei viadotti. Era malmessa e praticamente impercorribile e nel 2018 era stata riaperta in tutta fretta come ha ricordato il sindaco Vincenzo Tozzi quando subito dopo il terremoto Guardia Alfiera era rimasta isolata, collegata al resto del Molise solo dai viadotti. I lavori sono stati realizzati da ANAS in 70 giorni per un importo di un milione di euro e permetteranno di alleggerire il traffico come spiegato dall'assessore ai lavori pubblici Vincenzo Niro. Devo premialmente ringraziare ANAS che ha risposto all'appello che noi abbiamo fatto all'inizio dell'apertura di questo candiere che è importante per la messa in sicurezza del ponte perché la prima cosa è mettere in sicurezza tutto il viadotto e noi abbiamo suggerito di pensare a decongestionare quel traffico e quindi alleviare quelli che sono i disagi che purtroppo si concentrano soprattutto nel periodo estivo per diverse ragioni di utilizzo e di produzione del mare verso il basso Molise. La strada che verrà aperta al traffico domani alle 9 rappresenta un tassello importante per il presidente della regione Donato Toma che ha annunciato anche la sospensione dei lavori e la rimozione dei cantieri sul viadotto Molise 1 dal 15 luglio al 15 settembre per ridurre al minimo i disagi per i cittadini e per favorire il turismo. Presente è anche l'amministratore delegato di ANAS Massimo Simonini che ha confermato l'impegno degli ultimi anni per aumentare gli stanziamenti per la manutenzione delle strade. Previsti investimenti per 216 milioni di euro in Molise con l'Aisernia Castel di Sangro che come primo progetto nel giro di pochi mesi andrà in appalto. In questi anni abbiamo speso e stiamo spendendo tanti soldi in Italia ma anche ovviamente in Molise e quindi la manutenzione ha avuto un'impennata importante. Consideri che nel 2016 spendevamo 3 milioni di euro di manutenzione e quest'anno consideriamo di spenderne 30 e quindi immagini che tutto questo comporta lavori comporta difficoltà per l'utenza e lo vedete sul Molise 1 e Molise 2 dove purtroppo i sensi unici alternati diventano necessari e quindi è chiaro che per l'utenza è sempre una difficoltà però è necessario spendere questi soldi perché fanno parte della sicurezza per gli utenti e quindi ritengo che siano soldi ben spesi. E proprio nella zona in cui si stava svolgendo stamattina il taglio del nastro per la nuova strada c'è stata una scossa di terremoto che l'Istituto Nazionale di Geofisica ha localizzato a Guardia Alfiera state vedendo la mappa di magnitudo 3.3 ad una profondità di 9 chilometri la scossa è stata avvertita in paese e nei centri vicini fino a Termoli non sono stati segnalati i danni ma sono state comunque effettuate verifiche nella zona dell'epicentro del sisma. Commozione e cordoglio a Isernia per l'ultimo saluto a Maurizio e Rosanna i due giovani motociclisti morti in un incidente sulla Marsicana intanto la procura dell'Aquila ha aperto un'indagine per omicidio stradale Servizio Due corone di palloncini che allacciate tra loro volano in cielo così Isernia ha dato l'addio a Maurizio e Rossana nel pomeriggio di ieri nella chiesa di San Lazzaro la triste e commovente celebrazione del funerale dei due giovani centauri isernini che hanno perso la vita sulla Marsicana la comunità isernina ha dato così l'ultimo saluto ai due fidanzati insieme per sempre una comunità ancora profondamente sconvolta per una tragedia inconcepibile sconcerto e dolore senza fine sono i sentimenti che in queste ore accomunano quanti conoscevano la coppia molto ben voluta Isernia Maurizio di professione meccanico gestiva un'officina a Vandra lungo il Macerone insieme alla compagna di origini pugliesi intanto la mamma, il papà e le due sorelle di Maurizio Tortola e i genitori e la sorella di Rossana di Noia non nascondono la loro amarezza per le parole dette e scritte sulla dinamica del sinistro che ci tengono a chiarire è ancora tutta da accertare finora di sicuro c'è che le due vittime sono morte per i gravi traumi riportati nel tremendo impatto con l'auto un Audi che sopraggiungeva nel senso opposto lo ha stabilito l'autopsia disposta dal pubblico ministero della Procura dell'Aquila l'altro elemento certo peraltro è un atto dovuto è che la Procura dell'Aquila ha aperto un'indagine per omicidio stradale tutto il resto andrà attentamente vagliato dagli inquirenti e anzi familiari auspicano che la Procura possa disporre anche una perizia cinematica per ricostruire nel dettaglio le cause la dinamica e tutte le responsabilità di quel terribile scontro con lo scopo di dare risposte a chi chiede innanzitutto verità e rispetto per i loro cari e il loro dolore e questo pomeriggio si sono tenuti a Frosolone i funerali di Luigi Pallante il padre dell'assessore regionale Quintino ha ricevuto l'ultimo saluto nella chiesa di Santa Maria Assunta Luigi morto a 86 anni ha segnato con la sua attività l'imprenditoria molisana dagli anni 70 in poi era al vertice della 3L impresa battezzata così dal commendatore Quintino Pallante senior 3L perché i nomi dei suoi tre figli maschi cominciavano tutti con la lettera L Luigi, Lucio e Lelio Pallante era lo zio del nostro editore Quintino presente ai funerari anche il direttore di Telemolisi Emanuele Petescia che ha pronunciato un sentito elogio funebre in memoria dello scomparso Adesso torniamo a parlare della Stellantis e dell'annuncio arrivato ieri degli investimenti su Termoli dopo settimane di incertezza dunque confermata alla notizia che fa tirare un sospiro di sollievo Termoli è stata scelta come terza Gigafactory d'Europa come polo dunque per la produzione di batterie per auto elettriche Il servizio Dopo settimane di incertezza è arrivata la notizia che fa tirare un sospiro di sollievo Termoli è stata scelta da Stellantis come terza Gigafactory d'Europa del gruppo automobilistico nato dalla fusione tra Fiat e Peugeot La fabbrica di Contrada rivolta del Re verrà in parte riconvertita per la produzione di batterie per auto elettriche destinate dunque a tutte le vetture del gruppo Lo ha annunciato l'amministratore delegato Carlos Tavares in apertura dell'Electrification Day dedicato proprio alla strategia del gruppo per l'elettrificazione Un annuncio a sorpresa dato che si pensava che la fabbrica di batterie sarebbe stata realizzata a Torino Per Termoli dunque una boccata d'ossigeno dopo le forti preoccupazioni delle scorse settimane per la riduzione del personale manifestate dalle sigle sindacali e dalla politica Si tratta di una notizia importantissima per il nostro territorio e che sgombra il campo dalle tante illazioni di queste settimane hanno commentato dalla segreteria territoriale della Wilma e plaudono alla decisione di insediare a Termoli la terza Gigafactory d'Europa anche la FIOM e la FIMCISL La notizia non ha colto di sorpresa il sindaco di Termoli Francesco Roberti che già da diverso tempo era in contatto con i vertici aziendali dell'impianto di rivolta del Re Eravamo abbastanza tranquilli in quanto in questi mesi in almeno due occasioni ha dichiarato ho avuto modo di confrontarmi con i vertici aziendali di Stellantis Oggi la soddisfazione è massima perché lo stabilimento della nostra città giocherà un ruolo chiave nel rilancio del settore italiano dell'auto ha commentato Roberti Sono attesi corposi investimenti stanto a quanto riferito dalla ditta Vares Oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 nell'elettrificazione e nel software mantenendo un'efficienza esemplare per il comparto automotive Sono circa 235 mila euro fondi inutilizzati dalle altre regioni le risorse che il ministro delle politiche agricole ha destinato all'apicoltura del Molise su richiesta dell'assessore Nicola Cavaliere L'importo consentirà di far scorrere la gradatoria del bando regionale 2021 Una scelta ha commentato Cavaliere che copre le esigenze delle aziende e valorizza un settore a lungo sottovalutato Lo scorrimento della gradatoria darà il via a 60 finanziamenti per l'acquisto di arnie e 64 per il ripopolamento delle api due ad altrettante associazioni per attività di promozione e infine 19 contributi per attrezzature e laboratori L'obiettivo ha concluso Cavaliere è tutelare l'apicoltura locale che sta uscendo dalla fase amatoriale per divenire una realtà ormai consolidata E adesso parliamo di Cammina Molise una delle iniziative storiche della nostra regione torna anche quest'anno per la sua 27esima edizione si terrà dal 31 luglio al 3 agosto stamattina al Mario Pagano di Campobasso c'è stata la presentazione per noi c'era Tonino Danese Cammina Molise come è stato spiegato da Giovanni Germano alla presentazione dell'iniziativa nell'aula magna del convitto Mario Pagano di Campobasso Quattro giorni partiremo il 31 di luglio da Civita di Boiano per arrivare a Campo Chiaro la sera passando per Boiano il Tratturo poi il giorno dopo sempre da Campo Chiaro dal Tambietto Italico arriveremo fino ad Altilia quindi un percorso dedicato all'archeologia il terzo giorno San Giuliano Vinchiaturo il quarto giorno Campo di Pietra Toro e San Giovanni Ingaldo In quasi 30 anni Cammina Molise ha attirato camminatori da tutta Italia e anche dall'estero e l'associazione La Terra ha creato una rete Il messaggio è semplice la nostra è una testimonianza per dire a tutti e alle istituzioni in maniera particolare che il semplice gesto del cammino può risollevare le sorse di tanti nostri paesi insomma un turismo lento mitigato Diverse le iniziative nel tempo culminate anche in Cammina Molise in Argentina dove numerosa è la comunità molisana e in cantiere la sesta edizione per l'assessore regionale alla cultura e al turismo Vincenzo Cotugno Cammina Molise è un esempio limpido di valorizzazione e promozione del nostro territorio 27 edizioni che neanche il covid ha fermato possiamo dire quest'anno sicuramente il numero sarà ridotto si parla di oltre però 150 partecipanti un evento straordinario comunque per la nostra regione arrivano da tutte le parti d'Italia alla scoperta proprio dei nostri borghi storici e delle nostre eccellenze il lavoro fatto da parte dell'assessorato del governo regionale ma anche dalle associazioni proprio a veicolare quello che è il nostro straordinario bagaglio ricchezza del nostro territorio a livello nazionale e internazionale domani il cardinale Francesco Cocco Palmerio sarà pietra abbondante alla parrocchia di Santa Maria Assunta dove alle 11 presiederà il solenne pontificale nel pomeriggio alle 18 ci sarà invece un convegno di studi con l'intervento di numerosi relatori e figure ecclesiastiche a seguire dopo la Santa Messa del mattino è prevista la visita al sito archeologico di Pietra Abbondante ad accogliere l'alto prelato saranno il parroco del paese il sindaco di Pietra Abbondante Antonio di Pasco una notizia di cronaca c'è stato un incendio nel pomeriggio nelle campagne di Tufara le fiamme sono arrivate fino alla periferia del paese sul posto sono dovute intervenire diverse squadre dei vigili del fuoco e un canadeir sono servite alcune ore per domare le fiamme ancora una bella storia di impresa e sostenibilità a margine del premio Industria Felix tra le migliori imprese a conduzione femminile per performance gestionale affidabilità competitività e sostenibilità è stata premiata l'isernina BMN Salus ce ne parla Barbara Fino una iniezione di entusiasmo anche sul tessuto economico molisano quella generata dal premio Industria Felix la cui cerimonia di premiazione per le regioni Puglia Molise Basilicata si è svolta in presenza nella splendida cornice del castello aragonese di Taranto la settima edizione del premio è stata dedicata al latinista e rettore dell'università di Foggia Giovanni Cipriani scomparso prematuramente e che anni fa creò in prima persona il sintagma Industria Felix partendo dalle parole latine struere cioè costruire e Felix colui che è in grado di costruire genera dunque benessere in questo contesto assume rilevanza il nuovo riconoscimento ottenuto dall'impresa esernina BNM Salus che era stata premiata già l'anno scorso una storia di famiglia ed impresa tre giovani Barbara Mario e Nicola decisero sette anni fa di mettere in gioco loro stessi e tutto ciò che avevano per realizzare un sogno professionale con importanti risvolti etici e di sostenibilità sociale è stata la stessa Barbara Vicogli a ricordarlo nel prendere la parola durante la premiazione ricordando i tanti sacrifici affrontati con la sensibilità di donna e mamma nel voler dare forma a tutti i costi a una clinica odontoiatrica animata da uno spirito nuovo affiliandosi al gruppo Odonto Salute impresa a conduzione femminile per la parte gestionale e con una forza lavoro per i due terzi formata da donne per dare risposta alle esigenze dei pazienti anche dalle regioni vicine l'apertura due anni fa di una nuova clinica a Napoli in zona ospedaliera e nuovi progetti di sviluppo e di nuova occupazione anche su Isernia meno di un anno fa l'impresa era stata premiata per le politiche di welfare dedicate a dipendenti e collaboratori terza classificata in Italia su oltre 6.500 aziende analizzate ora questa nuova conferma sulla validità di un progetto capace di coniugare impresa ed etica 50.000 bilanci 2019 analizzati dal CERVED agenzia di rating italiana in collaborazione con il Sole 24 Ore molteplici criteri valutati tra cui indici di redditività imprese a guida femminile imprese under 40 ad essere premiate le aziende con bilanci virtuosi e che hanno visto crescere i propri utili ma anche il numero degli addetti nonostante il covid e il Molise fa bella mostra di sé con 22 imprese selezionate in diversi campi e prima di chiudere parliamo di animali il 5 luglio scorso sui social era stato lanciato un appello per 5 cuccioli di cane trovati in una scatola sulla strada provinciale 9 di San Pietro infine vedete le immagini 5 cuccioli appena nati e di cui si sono poi perse le tracce se li riconoscete o se c'è qualcuno che li ha trovati e che li ha presi per prendersene cura come sempre può contattare la nostra redazione con questa notizia termina l'ultima edizione del nostro telegiornale io vi ringrazio per averci seguito vi auguro una buona nottata vi do appuntamento domattina per il nostro primo TG e la rassegna stampa come sempre a partire dalle 7 a domani buonanotte